... Mangiato a Ostia con i soldi della catenina di Luigia. Fritto misto, trancia di pesci, broccoli, taralli e gelato. Il giro di un bel bacino, il giro di un bel bacino e la fiesta. Il giro di un bel bacino e la fiesta com'è! Que te la pongo, que te la pongo... Grazie per la visione!